Buona giornata e ringrazio di vero cuore il direttore di Telemaiche Gino Maiulli e tutta quanta la redazione per la disponibilità per questo bel momento di condivisione poetica. Vorrei fare gli auguri a tutti quanti voi per quanto riguarda la festività patronale della Madonna di Settembre. È un momento di profonda spiritualità e di condivisione collettiva per il bene e per il miglioramento della nostra cittadinanza, senza perdere di vista la finalità che è quella della spiritualità. A tal riguardo vorrei leggere una poesia che verrà pubblicata con il mio prossimo libro, molto spirituale, dal titolo Le nuvole. Le nuvole. Sono tra le nuvole, timidamente le sfioro e piano mi accarezzano. Sono un tutt'uno con loro nel mio intrepido volo, libero e leggero, viaggio verso l'infinito. Attraverso le nuvole io adesso sono una nuvola. Ecco, si tratta di una poesia fortemente spirituale nel quale noi abbandoniamo l'aspetto materiale dell'essere per uniformarci, per confonderci alla vera essenza, alla spiritualità assoluta. Vorrei leggervi una poesia inedita dedicata alla nostra protettrice, alla Madonna di Costantinopoli, la cosiddetta Madonna di Settembre, in dialetto, insomma. E dunque, con questa poesia, che è leggermente più lunga della precedente, vorrei, io analizzo un mattimino tutti quanti noi. E dunque, perché la Madonna, la nostra protettrice, veglia ogni giorno, non solamente il primo martedì di settembre o il martedì di marzo o la domenica della Madonna, ma ogni giorno è a fianco nostro. E la vorrei dedicare a tutti quanti i nostri compaesani, oppure ai vari turisti che verranno, che vengono durante la festa, ma in particolar modo alle persone che soffrono, ai malati, agli anziani, che non possono vivere a un'autonomia o liberamente condividere pienamente questo momento di festa e di profonda spiritualità. Il titolo della poesia è La Madonna di Costantinopoli, La Madonna da Settembre. In fondamentalmente è una preghiera. Maria, Madre Santa, protettrice della nostra comunità, Tu, che sei ovunque vivi in noi, con i nostri piccoli percorsi differenti, osservaci con il tuo sorriso materno, custodito nell'infinito del cielo stellato di questa notte di settembre, ma che ogni giorno con noi sei presente. Lo sei nel volo di una rondine in primavera ed anche nella sera più nera, negli occhietti curiosi di un bambino o sul volto stanco e rugoso di un anziano, nel tenero bacio di due innamorati ed in quei sogni ormai dimenticati. E in questo momento la tua immagine, umile e semplice, ma ricolma d'amore, è proprio lì, dinanzi ai nostri occhi. Madre Celeste, prega per noi e proteggici in questi giorni particolari di sofferenza e fatalmente irreali. Con il tuo immenso e sconfinato amore, dona a noi la pace interiore e quella spinta nell'animo per affrontare le nostre prove e difficoltà quotidiane, anche a coloro che non hanno più la forza per chiedere e sperare ancora. Madre misericordiosa, infondi dei nostri semplici cuori, quel sentimento di unità e fratellanza, che come un manto leggero, doni pace e amore ed un futuro sereno alla nostra bella acqua viva. Era un augurio, una preghiera fondamentalmente, nei confronti della Madonna che vegli e continui a vegliare tutti quanti noi, ogni singolo giorno. Ora però invece, tornando a un aspetto più terreno, più umano, vorrei leggere una poesia di un nostro caro concittadino che tutti quanti conoscono e che purtroppo è venuto a mancare prematuramente. Poeta, editore, Peppino per gli amici, per tutti quanti, Giuseppe d'Ambrosio Angelillo. È venuto a mancare qualche anno fa ed è stata una figura di alto spessore morale e culturale. A lui questi giorni proprio della festa della Madonna di settembre di quest'anno è dedicato a un premio per il quale c'è la premiazione in questi giorni. E dunque vorrei dedicare questa poesia a lui che tratta dal mio ultimo libro, in attesa del prossimo, Catturando l'Infilito. Ho avuto il piacere e l'emozione di poter essere premiato proprio a Milano con questa poesia. E devo dire la verità che nel momento in cui mi sono trovato vicino al Duomo e ho avuto l'emozione e il piacere di leggere questa poesia, mi sono immerso completamente nelle atmosfere vissute effettivamente dal nostro caro Peppino. Leggo la poesia. Il poeta sotto i portici. Sotto i portici e lampioni, tra vetrine e palloni colorati, davanti agli angoli più scuri, dove si alternano i volti fuggenti di cuori solitari e bimbi sorridenti, turisti curiosi e impiegati pensierosi, ve un banchetto colmo di volumi e libri, che non ha bisogno d'orpelli e lustrini perché brilla di luce propria. Accanto un uomo alto con una barba affolta, il poeta di strada. Nei suoi occhi è racchiusa la purezza e la profondità tipica dei poeti, quelli veri e non di mercanti o ammaliatori. Il poeta, con semplici versi, aprendo anche i cuori più spenti come petali di fiori, trasmette emozioni e riflessioni per comprendere meglio la poesia della vita. I suoi versi profumano di terra, racchiudendo il senso del sacrificio e della sofferenza. Le sue litiche sono aperte al prossimo e dal mondo, con il senso di libertà impresso da letture giovanili, di testi filosofici e romanzi. L'utopia di una vita oltre l'aspetto materiale e la più sterile apparenza. Con occhi intrisi di purezza e leggerezza, ma ben piantato con i piedi sulla terra, riesce a giungere al cuore di quel passante occasionale, al quale con discrezione mostra un libro, una poesia, con la speranza come più grande ricompensa non del denaro, ma dell'apprezzamento del lettore ed il saluto per un nuovo giorno, anche oggi, che la sua barba accarezza il numero in cielo. Ciao Peppino. Hanno raccolto l'eredità della casa editrice Acquaviva e dunque di questa attività letteraria, culturale, editoriale, l'associazione culturale L'Incontro on Luce, di Roberto Tritto, che mi fa piacere, diciamo, ho avuto molto piacere di pubblicare con questa casa editrice il mio ultimo libro e il prossimo. Dunque loro in maniera genuina hanno proseguito il seme lanciato da Peppino, che tra l'altro è stato editore degli ultimi libri di Alda Merini e il premio è stato organizzato, il premio dedicato a Peppino, appunto dalla casa editrice l'Incontro di Edizioni, l'Incontro on Luce. Comunque auguro buona festa a tutti quanti voi e ringrazio di vero cuore il direttore di Telemaig, Gino Maiulli, ringrazio la redazione di Telemaig e consentitemi di dire per tutto il servizio, i servizi che in maniera disinteressata durante questi anni hanno svolto per la nostra bella cittadina Acquaviva. Tanti auguri a tutti quanti e buona festa.